Continuiamo il nostro viaggio attraverso l'esposizione fotografica analizzando la terza variabile che controlla e gestisce la luce nei nostri scatti, i valori degli ISO. Le ISO rappresentano semplicemente la sensibilità del nostro sensore ai raggi luminosi, sono quindi l'equivalente delle pellicole e rullini che si usavano una volta, solo col grosso vantaggio di avere tutte le sensibilità già a disposizione nella macchina senza dover cambiare l'ullino. Esattamente come abbiamo visto per le altre due variabili anche i valori di ISO sono articolati in una scala che viene chiamata scala delle ISO. Il ragionamento di questa scala è molto semplice esattamente come abbiamo visto per quella dei tempi, quindi abbiamo un incremento delle ISO di un fattore 100, come puoi vedere 100, 200, 400, 800, quindi raddoppia a ogni gradino il valore delle ISO e a ogni gradino di questa scala corrisponde come sempre uno stop di luce. A raddoppiare del valore delle ISO, quindi per esempio passando da 400 a 800, abbiamo che anche la luminosità della nostra scena raddoppierà. Viceversa quando il valore degli ISO si dimezza, quindi passando per esempio da 400 a 200, anche il sensore immagazzinerà la metà della luce. Quindi il ragionamento facile e diretto è esattamente come quella dei tempi, quando si sale sale anche la luminosità, quando si scende, quindi si scende di valore, scende anche la luminosità della scena. Esattamente come abbiamo visto per le altre scale stai attento al fatto di avere una diversa scala diciamo all'interno della fotocamera, come puoi vedere nella Nikon abbiamo una funzione leggermente diversa rispetto a prima, poi il ragionamento è lo stesso e quindi puoi dividere poi il tuo stop in un mezzo stop, in un terzo di stop e quindi poi dovrai fare attenzione quando varierai questa componente sulla tua fotocamera, con la rotellina come abbiamo visto anche per le altre due variabili, ci sono sempre delle rotelline diverse, delle combinazioni di tasti, legge sempre il manuale di istruzione della tua fotocamera in modo tale da essere sempre informato di dove sono collocate le varie funzioni. Vediamo anche le fotografie come si comportano a variare delle ISO, usiamo la stessa composizione che ho usato per i diaframmi quindi i tre cavallini, partiamo da un ISO basso quindi da un ISO 100 e pian piano ogni step aumentiamo ovviamente raddoppiamo i valori delle ISO. Vedi come la luminosità cresce esponenzialmente ma vedi che si presenta anche un altro difetto perché aumentando la sensibilità del nostro sensore quindi aumentando i valori delle ISO andiamo incontro a un difetto molto brutto a vedersi che è chiamato il rumore digitale. Questo difetto si manifesta come una sottile grana come puoi vedere anche in questa fotografia che si sviluppa soprattutto nelle zone diciamo a bassa luminosità. È un difetto chiaramente antiestetico e ti dico già che anche in post produzione può essere alternato ma non di tanto quindi bisogna lavorare sempre con ISO molto bassi. Ti consiglio sempre di lavorare con valori di ISO minimi, di solito il minimo impostabile dalla fotocamera è 100 in alcune può essere anche 200 e di dosare veramente il valore di ISO solo in condizioni estreme solo quando la luce è talmente critica quindi c'è talmente poca luce da dover usare anche questo valore per trovare la corretta esposizione. Quindi ricapitoliamo un attimo come si comportano le tre variabili per poi vedere come sono correlate tra di loro. Abbiamo detto la scala di ISO che è quella che abbiamo appena analizzato che presenta l'effetto del rumore digitale vedi ad alte ISO quindi salendo questa scala abbiamo un aumento di uno stop di luce per ogni gradino salito. Scendendo invece la scala delle ISO abbiamo una diminuzione di uno stop di luce. Ugualmente la scala dei tempi con la stretta colorazione sempre vedi tra tempi per congelare diciamo il movimento oppure tempi per lasciare il movimento in scia. Comunque torniamo alla nostra esposizione salendo la scala dei tempi abbiamo un aumento scendendo invece abbiamo una diminuzione della luce. Invece i diaframmi e qui l'inghippo ricordi sempre che è inverso rispetto a prima salendo lo scala dei diaframmi abbiamo una diminuzione della luce mentre scendendo lo scala dei diaframmi abbiamo un aumento della luce. Il tutto sempre ovviamente di uno stop. Intanto qua vediamo anche la correlazione tra il diaframma e la profondità di campo che è massima quando i diaframmi sono molto chiusi quindi come f22 o f16 ed è minima a diaframmi molto aperti come f2, f28 e via dicendo. Queste tre variabili quindi diaframma tempo e iso sono alla base di un principio molto importante per la fotografia che si chiama triangolo dell'esposizione. La correlazione tra queste variabili è inversa quindi sono uno il reciproco dell'altro. Essendo strettamente correlate vuol dire che se noi agiamo per esempio sul diaframma per trovare la corretta esposizione di un'immagine dobbiamo agire anche sul tempo di esposizione oppure sul valore di iso ma abbiamo detto che il valore di iso lo usiamo solo in condizioni di estrema necessità. Per capire la correlazione esistente tra queste variabili facciamo un classico esempio che viene usato a tutti i corsi di fotografia. Immagina di avere un secchio e doverlo riempire con il tuo rubinetto. Il diaframma praticamente rappresenta l'apertura di questo rubinetto quindi puoi decidere grazie al diaframma l'entità del tuo flusso. E' logico pensare che più il flusso sarà consistente minore sarà il tempo che ci vorrà per riempire questo secchio. Questa è proprio la correlazione esistente tra queste tre variabili che sono reciprocamente collegate quindi sono inversamente collegate tra di loro. Ti vedo ancora un po' titubante quindi facciamo subito un esempio pratico per capire. Per semplicità ovviamente usiamo il tempo e il diaframma visto che sono le due componenti, le due variabili, che vengono usate più spesso. Ecco qua abbiamo le due nostre scale nei tratti che ci interessano. Se noi riduciamo per esempio il tempo di scatto da un cento venticinquesimo di secondo a un duecentocinquantesimo di secondo siamo scesi di un gradino nella scala dei tempi. Quindi se noi scendiamo nel gradino nella scala dei tempi vuol dire che riduciamo la luminosità di uno stop. E' meno il tempo in cui la luce colpirà il sensore e quindi avremo meno luce sulla scena. Quindi per bilanciare questa perita di luminosità andiamo agire sulla scala dei diaframmi. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo aprire il diaframma per esempio da f11 a f8 perché scendendo di un gradino la scala dei diaframmi aumenteremo la luminosità di uno stop. Immaginiamo di fotografare una scena trovando la corretta esposizione con un cento venticinquesimo di secondo e un'apertura del diaframma pari a f11. Per esigenze di scena visto che c'è un soggetto in movimento dobbiamo cambiare il nostro tempo di esposizione. Quindi cambiamo il nostro tempo di esposizione da un cento venticinquesimo a un duecentocinquantesimo. Vuol dire che quindi siamo scesi di un gradino nella scala dei tempi e quindi ovviamente se scendiamo nella scala dei tempi diminuiamo il tempo di esposizione del nostro sensore e sarà anche minore la quantità di luce che sarà immagazzinata. Ma in questo caso avremo una fotografia sottoesposta perché nella nostra corretta esposizione era con un cento venticinquesimo in secondo un diaframma di f11 e vabbè un valore di iso di 100 che comunque l'iso abbiamo detto che lo usiamo il meno possibile. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo recuperare quello stop di esposizione che abbiamo perso. Quindi cosa facciamo? Interveniamo sul diaframma. Diviniamo il diaframma da f11 a f8 perché scendendo di un gradino la scala dei diaframmi aumentiamo la luminosità di uno stop. Scendiamo la scala dei diaframmi come puoi vedere dall'immagine aumenta il buco. Aumentando il buco aumenta anche la luce. Quindi abbiamo bilanciato la paleta di stop dettata dal fatto di aver usato un tempo più veloce aprendo leggermente il diaframma. In questo modo abbiamo sempre ottenuto una corretta esposizione. Sto parlando solo del tempo e del diaframma perché abbiamo detto che le iso devi usarle il meno possibile per il problema del rumore digitale. Potrai fare anche altri esempi ma ovviamente il concetto è sempre lo stesso. Quindi c'è sempre un bilanciamento tra le varie scale in modo da recuperare i stop persi da una parte in un'altra scala. L'unica difficoltà che si ha inizialmente è il fatto che la scala dei diaframmi sia opposta a quella del tempo e delle iso. Quindi una parte bisogna scendere o salire ma ormai questo l'abbiamo capito. Sto parlando tanto del tempo e del diaframma perché come ti ho detto e ti ripeto ancora una volta il valore delle iso va tenuto veramente sempre al minimo perché comunque crea questo fastidioso problema del rumore digitale. Quindi possiamo dire che quando c'è molta luce non dovrai usare il valore delle iso e otterrai accento che quindi è valore minimo e cambierai il tempo e il diaframma ovviamente cambiando queste due variabili saranno regolate a seconda delle necessità del momento quindi tempo veloce per esempio per soggetti in movimento e alti valori del diaframma per una buona profondità di campo. Quando invece le condizioni di luminosità sono più critiche potrai agire anche sul valore del iso senza aumentare troppo questo valore e quindi dovrai usare un terpiede come vedremo poi nelle prossime lezioni per mantenere comunque una buona qualità fotografica e limitare la formazione di questo rumore digitale. Quindi come puoi vedere anche dall'immagine una delle variabili fondamentali dell'esposizione fotografica è ovviamente la quantità di luce presente in scena perché come tutti sappiamo se non c'è luce non c'è neanche la fotografia. Inoltre un'altra variabile da tenere sempre in considerazione che svilupperemo in tutto questo corso di fotografia è la scelta del fotografo quindi in questo caso quanto vuoi che sia pieno il tuo bicchiere perché tutte queste variabili dipendono appunto da come uno vuole la fotografia magari per alcune esigenze di scatola vuole più sottoesposta o più sovraesposta o vuole congelare il movimento invece o renderlo più fluido oppure vuole avere una profondità di campo ridotta oppure un po' più evidente. Sicuramente alcuni concetti ti saranno poco chiari e nebulosi ma direi che è del tutto normale hai appena capito uno dei principi chiave della fotografia di base e quindi ci vuole soprattutto un po' di pratica adesso quindi esci fuori o anche stai in casa dipende dove vuoi scattare te ma cerca di sperimentare con i tuoi scatti l'utilizzo di queste variabili quindi guarda la formazione di un rumore digitale aumentando il valore di iso guarda la correlazione esistente tra il diaframma e il tempo quindi aumenta da una parte lo stop e diminuisce dall'altra e cerca quindi di ritrovare la corretta esposizione ovviamente nel corso delle prossime lezioni soprattutto nella prossima faremo degli esempi pratici per cercare di capire ancora meglio questi concetti ci vediamo alla prossima